Al centro della Sicilia sorge Sutera, borgo pieno di storia e di bellezze naturali. Dal 2014 Sutera è uno dei borghi più belli d'Italia. A circa un chilometro dal centro abitato di Sutera si erge il Pizzo di San Marco, collina frastagliata che i sicani, i greci, i bizantini hanno scelto come luogo di culto. Su un pianoro della collina si trova la Cappella di San Marco, una nicchia sulle cui pareti interne e di rocce di gesso si trovano dei preziosi e antichissimi affreschi risalenti al VI secolo d.C. Gli affreschi raffigurano i quattro evangelisti, Gesù, la Madonna e San Paolino. Le raffigurazioni, pur avendo delle similitudini con altri siti del territorio siciliano, hanno delle unicità che tuttora gli storici stanno cercando di interpretare. L'associazione Gruppo Onore Dignità ha lanciato Salviamo la Cappella di San Marco, una campagna di donazione per recuperare gli affreschi di eccezionale valore storico, ma anche di inestimabile valore affettivo per tutti i sutteresi ovunque essi si trovino. Un primo intervento consisterà nel bloccare il deterioramento e la perdita degli affreschi e la loro pulitura. Successivamente si interverrà per il restauro completo. Non possiamo assistere passivi alla perdita definitiva degli affreschi, negandone la fruizione alle generazioni future. Ora è il momento del tuo aiuto e del tuo contributo. Partecipa insieme a noi alla salvaguardia degli affreschi per un immediato e necessario intervento, al fine di riportare la nostra Cappella di San Marco ai suoi colori originali. Per donare vai sul sito GoFundMe e cerca Salviamo la Cappella San Marco e dona in piena sicurezza. Oppure contattaci al numero 320 07 33 942 o sui canali social Facebook e Instagram e sul sito www.Godsutera.it Grazie, anche a nome delle generazioni future. Grazie. 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 Grazie.